Per Dottin anche lui riduce da uno stop di bene due anni e di conseguenza ecco per voi la vostra alternativa ma va bene per cancellarla perché a questo punto devono lavorare gli italiani e gli spagnoli e non ci sono ulteriori scatti Sì, però deve stare molto attento, certo Vino Kurov con le squadre così ben disposte, le squadre più forti pronte ad inseguire non ha fatto forse la mossa giusta, forse era meglio aspettare la cima dell'acqua fresca ma è vero che in questo modo tira il gruppo e infine indiana, ciò che va a favore di cancellare Allora tra tutti i possibili attesi protagonisti di questo campionato del mondo l'unico che marca assenza è Andy Schleck gli altri ne sono tutti quanti Ma in effetti parlavo con i giornalisti lussemburghesi, non sembravano indicare uno Schleck all'altezza della Liegi Bastogliegi che ha vinto quest'anno in modo strepitoso, uno Schleck che questo finale di stagione era un po' meno brillante Sì, il suo compagno di squadra ha detto, arriva un po' stanco a questo appuntamento Sì, ha cercato con la vuelta di ripartire ma in effetti non è brillante come appunto all'inizio di stagione E come ha fatto tutto il trans nel mese di luglio dove ha dovuto inclinarsi al solo Alberto Contadori Intanto chi li troviamo? Pino Kulof Il kazako Legato a questa squadra, alla Stana, per quello che riguarda la sua stagione Che a volte non è un vero e proprio polverone Anche perché l'unico ciclista internazionale vuole togliere la licenza protura alla stessa Stana Che non paga gli stipendi che li dovrebbero mai dallo scorso mese di giugno Il presidente Kazako, però grande appassionato di ciclismo L'uomo che ha messo in piedi in pratica questa formazione Ha assicurato a parte di quella che prima o poi gli stipendi arriveranno E' un po' tutto l'anno che ci sono questi problemi per la Stana E' certo Il posto non se ne è già andato portandosi dietro pareti i corridori Ha dato che è andato a correre da Tassin Ma per il momento deve rimanere agganciato come l'ha contratto Ancora per una stagione Questa però è una storia che c'è un rapporto con quello che sta avvenendo quest'oggi qui In quella di Metriso Siamo ormai entrati nell'ultimo giro di questo campionato del mondo Nel campionato del mondo che Che sembra giocarsi ormai tra quelli che si seguono Ma sicuramente si giocava E' difficile ormai rientrare Questo è un gruppo ad esempio comprendente Tombone C'è anche Albasini In possibilità di però riportarsi sul gruppo dei Battistrada Solo una pentina E c'è anche Freire Non c'è più Tombone ma c'è Freire Attenzione quindi Cancellara deve trovare una soluzione alternativa Sta andando fortissimo Sta andando fortissimo Ma deve essere altrettanto forte di testa Per trovare una soluzione in questo finale Io credo che da un punto di vista strettamente fisico-atletico I due uomini più forti Se vedi che questo gruppo siano Cancellara e Capri Sì però vedi che la forza potrebbe decidersi Intanto Chi è che si muove? Colopner mi sembra Che vale aguantare Vino Curro? Vabbè certo se Vino Curro ottiene rinforze qui Questo gruppetto di testa può diventare pericoloso Ecco in effetti Colopner Il russo Pompone di squadra Anche per il apparito tempo Di Fabiana Cancellara Alla Saxo Bank È un corridore fortissimo Che c'è quando Gli appuntamenti sono importanti Attenzione a Colopner C'è sempre i mondiali C'è sempre E nel questo tipo di gare Ricordiamo anche Il suo ottimo risultato In occasione Della Olimpia di Pechino E Colopner Sembra Essere in grado Addirittura di andarsene Ha fatto il vuoto Colopner Da dietro però Allora si deve muovere per forza La formazione italiana Così come quella spagnola E allora si muove Da meno pure In una persona Con la ruota Philippe Giver Arriva anche Fabiana Cancellara Arrivano però Anche Samuel Sanchez Così come Valverde e Freire Eccolo qui Colopner Ed ecco Fabiana Cancellara Che scatta addirittura In salita Sul tratto più duro di salita Questo è l'ulteriore dimostrazione Di quella che è la forza Di quella che è la potenza Di quello che è lo stato di forma E di quella che è la sicurezza Straordinaria Che ha nel torno E che ha nella testa Fabiana Cancellara Straordinario Straordinario Ma rischia di esporsi un po' troppo Staremo a vedere Anche secondo me Marco Veramente bravissimo Incredibile Cancellara Addirittura riesce a stroncare Alcuni avversari Che avrebbero invece dovuto Mettere la difficoltà in salita E si riporta A seconda Straordinario Cancellara E però ora fa paura Veramente a tutti Fa paura a tutti Cancellara che insiste Comunque Restano pochissimi Attaccati alla sua ruota E con che affanno Allora Cancellara da una parte Filippo Giprià dall'altra Fuattino del Regas Naturalmente Samuel Sanchez E tutta la gente Fortissima Incredibile Cancellara E Camilla di Amazza E in affanno Cosa riesce a fare Cancellara che insiste Ma così appunto Ripeto Fa paura Veramente a tutti Cancellara insiste Perché è rimasto da solo Dei suoi di davanti E cerca In tutti i modi Di rendere Molto Mettor Facciamo la scompensa Marco Scatta in discesa Giù dall'acqua fresca Adesso Recupererà un po' L'energia Fa ben cancellata E poi proverà La volta in discesa E ma vedi che Samuel Sanchez Già lo marca Credo sia lui A ruota Samuel Sanchez Che è funambolo Altrettanto Quanto fa Del caccia della In discesa Sebbene Come d'altronde Era emerso L'occasione Della intervista Che avevamo proposto In precedenza Samuel Sanchez Era caduto Troppo in discesa Alla vuelta E insomma Evidentemente Poi ti Rimare Qualche dubbio In testa Perdi una po' Di sicurezza Quella stessa sicurezza Che però Samuel Sanchez Ha detto Che giorno dopo giorno Corsa dopo corsa Chilometro dopo chilometro Stava lentamente Riacquistato Sì Attenzione È caduto Però dopo è stato capace Che quando pioveva E quando le discese Ero difficile Di nuovo di scattare Solo Valverde In quell'occasione Fu in grado di rispondere Basso Rimase staccato E vado sempre La tappa di Avila E poi Rimediò Ma appunto Samuel Sanchez Non si mette Così facilmente In difficoltà In discesa Continua a essere Uno dei più forti Carrile Vance È stato l'ultimo A lei Attenzione Guardate cosa fa C'è un'altra Esattamente come T'avevo detto I lasci due metri Possono diventare quattro Possono diventare cinque C'è Samuel Sanchez Che va immediatamente Nella chiusura Sul rosso crociato Scatenato Lungo questa discesa Che porta giù A rotta di collo In direzione Di Valerna E conviene Insistere Almeno in discesa Cancellara Bravissimo A questo punto Certo rischia molto Ma Deve cercare Di fare la differenza Incredibile Straordinario Cancellara Che rilancia Con una forza Incredibile La forza D'altronde Ma ha anche Straordinarie doti Di acrobazia Nonostante Il suo fisico Imponente Ha una leggerezza Nella discesa Cancellara Che mette Davvero paura Tutti i suoi Riesce quasi A fare il buco Stiamo a vedere E tutto qui Lo spettacolo Condensato In quest'azione Che continua A manifestare In un modo Dirompente Fabia Da Cancellara Ma mi sa Che purtroppo Non basterà Siamo a porto Più di 7 kg Della conclusione Prima ha fatto Le prove generali Proprio in questa curva Per tirare il club Ora Farà come una volata Insisterà Cancellara Il primo piano Ha invitato A Fabiana Cancellara Che certo Fa patica E come se fa patica C'è il buco Per ora Risponde Risponde Samuel Sanchez E però lui non tira A questo punto Profumo anche Di Olimpiade Samuel Sanchez È il campione olimpico Fabiana Cancellara Le ha perso Delle Olimpiadi Di Pechino Anche se Quello è il terzo posto Alla lucida La squalifica di Rebellina Di fatto diventa Il secondo posto E c'è la chiusura Di tutti gli altri Adesso Colobnev Compagno di squadra Di Cancellara Durante la stagione Beh stiamo a vedere Potrebbe anche Ricevere qualche piccolo aiuto Da Colobnev A Cancellara Colobnev Che però Ha anche ammizioni proprie Stiamo a vedere Perché C'è scantata Questa altra parte Joachim Rodriguez Sì E vedi Lo dicevo Sanchez Non tira Con Cancellara C'è anche Freire In questo gruppo Forse ancora La chiusura di Evans O perlomeno Il tentativo Di chiusura Di Cadel Evans Attenzione Perché Vedi Cancellara A questo punto Si trova sempre A dover chiudere Tutti aspettano Cancellara E questo potrebbe Pagarlo nel finale Troppo numerosi Gli spagnoli Di questo gruppo Di testa E eccolo qui Breschel Attenzione a lui Matti Breschel Danese Inserito Necchegli Dunque In questo gruppo Dove Evidentemente C'è Fabio Cancellara C'è Gilbera Fatti Nero Regal Samer Sanchez Skodnef Valverde Così come Dania Oppure Così come Cadel Evans Che è stato L'ultimo Ad agganciarsi A questo gruppo Che si giocherà A questo Campionato Del mondo Finale E le prezzate Finale